buongiorno buongiorno vi ho abbandonato per qualche eh giorno ma solo su YouTube perché poi ho aggiornato tantissimo anche sugli altri social ma eh ero un po' in viaggio un po' il lavoro la ripresa insomma ho anche da fare ora sono sempre in viaggio sono tornato al mare stupendo e e infatti ho dimenticato anche la telecamera quella di maggior eh diciamo definizione ma quella ma vedo che comunque mi potete vedere sempre bene e soprattutto potete vedere le immagini che vi propongo ci sono tante cose da dire innanzitutto grazie del grandissimo appoggio ieri mi avete fatto gli auguri iscrivetevi a questo canale YouTube perché eh dovete eh se volete va fatto crescere eh siete in tanti che seguite allora se vi piace iscrivetevi e eh facciamo diventare questa realtà che sta crescendo qualcosa di più professionale a questo punto e anche io potrò darvi l'appoggio che desiderate perché mi iscrivete molti eh quando non aggiorno ma purtroppo anche altre cose da fare ma ma eh state tranquilli che continuerò ad aggiornare non solo eh Veteoscienza continua ad ampliarsi nelle varie eh branche dei social e rimarrà un punto fermo eh l'aggiornamento quotidiano di YouTube e adesso li prenderemo in pieno con l'autunno meteorologico e ehm talvolta anche a eh in coda nei commenti del dei video metterò anche alcune sponsorizzazioni che mano a mano verranno e che vi prego di di controllare perché insomma c'è il tentativo di far diventare questo canale più professionale non solo per le previsioni che sono sempre fatte in maniera amatoriale anche ma anche per la riproposizione in tempo reale di di video di tutto ciò che accade nel mondo in termini di eh meteorologia climatologia con cui potremmo discutere insieme insomma a me piacerebbe che il sogno che avevo da ragazzo cioè di eh occuparmi e aggiornare in continuazione in tempo reale interfacciarmi su tutti su argomenti di questo tipo scientifici anche in genere possa diventare realtà quindi con voi credo che riusciremo a farlo visto il grande appoggio che mi state dando e io da parte mia metterò un grandissimo impegno alle soglie della nuova stagione chiamiamola tra virgolette fredda nel senso che è il semestre freddo questo quello che si apre ora oggi primo settembre anche se anche se già ci sono titoli a non finire riguardo il caldo addirittura eccezionale 40 gradi nulla di tutto questo sta arrivando c'è una dinamica molto particolare la faccio anche vedere così vedete con una sorta di omega bloc che si definisce vedete il eccola al dito ovvero sia un plum caldo che sale fino alla Francia che resta l'obiettivo principale in quest'ultimo anno di molte ondate calde perché direttamente in senso meridiano da sud verso nord le ondate calde partono dall'Algeria da da dove ovvero la piastra continentale africano si spinge a maggior latitudine perché poi col golfo della Sirte come vi farò vedere nella Libia scende mentre a sud della Francia c'è proprio diciamo l'entroterra saariano molto caldo e quando questo tipo di affondi con una bassa pressione che vedete qua alla via sinistra scende lungo le coste del Portogallo fa risalire un plum caldo ma da noi come risposta soprattutto nelle regioni centro meridionali adriatiche ioniche ci sarà un ritorno del fresco tra martedì e mercoledì anche contemporanei eccoli qua li vedete guardate a flusso fresco quindi si è molto si fa presto a generalizzare e parlare di caldo ci sarà più caldo ci sarà l'estate settembrina farà più caldo in particolare come purtroppo per chi non non ama le caldo eccessivo le regioni occidentali in particolare il nord ovest sardegna a medio alto tirreno perché saranno più vicine alla fonte del caldo ovvero la risalita calda di stampo africano che avverrà principalmente in prima in Francia e poi nell'Europa centrale eh slittando oltre Alpe vi faccio vedere ora quello che sto parlando perché non sono solo chiacchiere ma ecco qua questa è la situazione attuale l'Italia sgombra da nubi guardate che bella giornata ma guardiamo le temperature insieme questo è il sito www.meteoscienza.it ricordate eccola qua di qui potete consultare in tempo reale tutte le temperature temperature real time guardate i valori questi sono in tempo reale diciamo al centro nord nessuna località raggiunge 25 gradi 25 non 40 quindi per adesso il primo settembre si apre anche un po sotto media ma comunque è al sud c'è una piacevolissima temperatura con una ventilazione io mi trovo in calabria nord orientale con 25 26 28 gradi in qualche località quindi si sta al momento si sta veramente bene che cosa accadrà vi faccio vedere subito vedete questo quel modello europeo il più affidabile guardate questo è l'inizio ora c'è quel vedete il cursore qui c'è una diciamo un flusso atlantico eh generalmente occidentale guardate cosa succede c'è questo a fondo di una bassa pressione sul portogallo proprio c'entrò sul portogallo questo causerà una risalita calda questo è il plum caldo lo vedete che si ricongiunge addirittura con l'anticiclone azzurriano ecco l'asse l'asse è dalla algeria verso la francia coinvolgendo anche le regioni più occidentali ma questo causerà la formazione di un perfetto omega blocking guardatelo vedete il cursore qui sulla germania con il perno di un anticiclone caldo cuore caldo che alimentato d'aria proveniente dall'entroterra africana addirittura e ai due lati due basse pressioni una sul portogallo e una nelle regioni centro meridionale anzi nello ionio con afflusso fresco eh su tutto l'adriatico e lo ionio e questa è una perfetta figura di omega blocking perché disegna un omega se i contorni dell'anticiclo ne disegnano un omega proprio guardate come prosegue eh arriva la bassa pressione nel mediterraneo orientale continua da afflusso fresco nei giorni successivi il perno del caldo va in Europa centrale in Germania da noi continua un po' di stabilità eccola mentre il nord ecco il nord il nord dove segnatamente lì farà più caldo e dopo c'è una fase più calda generale ma molto più blanda quando ormai l'anticiclone africana è andata a stemperarsi e vi faccio vedere pure le temperature se non ci credete questo è il modello europeo è il più affidabile ecco quell'attuale guardate fresco dodici gradi a mille e cinquecento metri di quota in medio anche sotto media poi riscalda ma non troppo vedete i colori giallini quindici sedici gradi siamo ancora bene ecco l'onda calda guardate dove va attenzione a questo passaggio da qui dalle coste algerine va verso la Francia e da noi non solo non arriva il caldo ma arriva più fresco dieci undici gradi al centro a mille e cinquecento metri di quota vuol dire che farà più fresco di quello che fa adesso e queste martedì con piogge luminello ione anche temporali poi torna una fase più calda e questo con una estate diciamo nel complesso settembrina quindi si fa presto a dire caldo eccezionale è incredibile la costanza con cui al primo sbuffo caldo eh alcuni diciamo siti strillano a un'ondata di caldo eccezionale quelle due tre due ne abbiamo avute trascorse una veramente eccezionale a fine luglio al centro sud e una molto molto intensa eh al eh nord segnatamente nord ovest sebbene non abbia raggiunto il record di alcuni anni tipo il duemila tre però però è stata veramente veramente eh molto molto intensa portando lo zero termico fino a cinquemila e trecento metri quindi ma è durato alcuni giorni e poi è arrivato come sapete un violento peggioramento su molte regioni che ancora c'è che ha portato molto fresco quindi c'è questa variabilità adesso ci sarà un ritorno del caldo lungo un asse molto stretto rastremato che punta dall'Algeria verso la Francia noi saremo ai maggio ho detto l'altro giorno e il nord però verrà colpito nord Sardegna e medio alto di Reno per quanto riguarda invece tutto il settore adriatico lo Ionio tutto il sud tutte le regioni in terra centrali non solo non farà caldo ma lì inizialmente ci sarà un nuovo ritorno dell'instabilità e del fresco nei giorni lunedì martedì e mercoledì e e quindi diciamo il caldo non lo vedranno poi si dovrebbe andare a stabilizzare il tutto in un'estate settembrina nel complesso abbastanza piacevole vedremo vedremo quanto sarà calda comunque le temperature alcune regioni saliranno sopra meglio questo è vero eh vedremo quanto saliranno vi aggiornerò non perdete tutti gli aggiornamenti iscrivetevi ciao ciao vedrete che vi aggiornerò perdonate un po' la veste meno nitida ma non vi preoccupate che aggiornerremo sempre e comunque costantemente ciao ciao a presto ciao ciao